Santo, ci sono delle conclusioni da tirare, c'è solo da testimoniare, almeno da parte mia, lo stupore per scoprire cosa non sia questa realtà della Fondazione e di tutte le realtà con cui è in rapporto, Asfra, Esserci e altre ancora, perché noi tutte le settimane ci troviamo con il direttivo della Fondazione a lavorare, a ragionare, a immaginare, a organizzare eccetera eccetera, ma quello che emerge poi da momenti come questo è certamente molto più grande, dà l'evidenza di come sia molto più grande la realtà che ci sovrasta e ci supera ogni momento e da ogni parte. Per questo mi verrebbe da dire che anche questa esperienza è ciò che fa dire a me che qualcuno nella mia vita ha detto a me, tu sei un bene per me. Comunque questo e molto altro, mostreremo a tutti al meeting di Rimini con la mostra che stiamo tutti insieme organizzando e alla quale invitiamo tutti a partecipare, molti già hanno anche dato una disponibilità ad essere presenti durante i giorni della mostra per presentare a chiunque questa esperienza, se qualcun altro volesse, potesse, non ha che da dirlo alla Rita, ma tutti comunque sono invitati almeno a venirla a vedere, ditelo, fatelo sapere. Stiamo preparando anche quello che si dice il catalogo della mostra che sarà un libretto che racconta un po' la nostra storia e avrà insieme delle immagini. Quindi ditelo, ditelo anche intorno, fatelo sapere, invitate le persone che conoscete. Se è vero quello che ci siamo detti oggi, vale la pena di dirlo a tutto il mondo.